Domenico abbiamo fatto l'ultimo torneo parolimpico sud a Ponte Cagnano e questo era l'ultimo perché poi ci sono in programma i campionati nazionali dal 19 al 21 novembre a Milano dove Berardino Locchiatto e Taurasi Marco si giocheranno la finale per il primo posto. In Irpinia il badminton è uno sport sempre più di moda, che va sempre più di moda. Sì, veramente ad agosto siamo stati sul territorio, siamo stati a Sturno al Festival Sport di Sturno due giorni veramente ci sono state una buona partecipazione sia di adulti che bambini. Poi siamo stati ad Ariano la settimana scorsa, la settimana dello sport a Terreno al palazzetto dello sport e sabato andremo a Mirabella e Clano. Non solo volani e campi sportivi, il badminton è uno sport, una disciplina che vuole farsi conoscere anche nel mondo della scuola. Sì, dal primo settembre è partito un nuovo progetto della Federazione Italiana Badminton che è un progetto ideato dal coordinatore nazionale Fabio Morino della formazione e si chiama proprio Formazione. Questo progetto è indicato proprio per le scuole oppure delle associazioni, qualsiasi associazione che vuole inserire il badminton nella propria organigramma lo può fare. Dunque rivolgiamo l'appello agli istituti e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Allora, chiunque si vuole avvicinare e vuole che andiamo nella scuola a fare una dimostrazione di badminton in Europa Maria può contattare al mio numero 347 33 93 170, noi saremo subito disponibili. Poi tra l'altro chi parteci sarà anche un corso di aggiornamento che si terrà il 12 novembre, uno shuttle time per i docenti delle scuole medie e i docenti delle scuole elementari.